Invece quello la ha caprette. Ma quando l'avete mangiato quanto tempo aveva il quale? Come? Quando l'avete mangiato quanto tempo aveva il quale? No, due mesi. Due mesi si può già mangiare? Sì, sì. Non è poca carne? No, è abbastanza, sì. Ho fatto mica una roba così fatta giusto da amici, no? Ma Giuliani che se ne fai tutti questi besti? Eh no, dove vai? È da mangiare, le cura, per alcuni che sono malati. Eh, le cura, ma se le tiene quattro anni vuol dire che poi non le molla più? Eh, poi rimangono lì, beh. Sì, perché la roba tutta è in regola. Non è.